La tredicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta da Yancor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Cambiamo categoria, responsabilità professionale e diritto sanitario. Il premio è Avvocato dell'Anno, responsabilità medica e malasanità e il vincitore è l'Avvocato Andrea Marzorati, studio legale Marzorati. Un bel applauso per lui. Per confermarsi ancora una volta una professionista di riferimento per i danni da malasanità e per l'ambito della responsabilità medica, per la capacità di fornire un'assistenza chiara e trasparente ai clienti vittime di errore medico, garantendo una consulenza completa, fino alla riuscita del risarcimento e consultando anche il parere di un team specializzato di medici legali. Insomma, particolarmente importante malasanità ed errore medico. Complimenti Avvocato, grazie. Complimenti per la sua attività. Siamo in compagnia dell'Avvocato Andrea Marzorati, main partner dello studio legale Marzorati. Benvenuto. Grazie. Per l'anno 2023 si conferma nuovamente un punto di riferimento nell'ambito della responsabilità medica e malasanità. Ecco, come commenta questa vittoria? Bene, ricevere per il terzo anno consecutivo questo premio come Avvocato, dopo che il nostro studio legale già era stato individuato come miglior studio in risarcimento malasanità, mi rende particolarmente orgoglioso e ringrazio il mio team. Io mi occupo di casi di malasanità in tutta Italia e abbiamo avviato da diversi anni un progetto innovativo nel quale diamo la possibilità a tutti di avere una effettiva tutela. Questo vuol dire che chi si rivolge al nostro studio per casi di malasanità non deve anticipare nulla per quanto riguarda il costo dell'Avvocato, del medico legale e del medico specialista, ma neppure per la relazione medico legale di parte e la perizia specialistica. Quindi anche chi non ha le possibilità economiche può affrontare un caso di malasanità senza particolari problemi, proprio perché prima si incassa il risarcimento e poi viene pagato il nostro studio legale. Ecco, con la pandemia sono emerse diverse fragilità in alcuni reparti. Oggi il sistema sanitario nazionale è riuscito un po' a recuperare quei ritardi o ci sono ancora delle lunghe liste d'attesa per i pazienti che comunque devono affrontare degli esami diagnostici o degli interventi importanti chirurgici? In Italia la sanità pubblica e privata è certamente buona con dei punti di eccellenza, tuttavia abbiamo visto che durante la pandemia ci sono state nel sistema sanitario nazionale delle criticità. Ci sono dei ritardi per le visite, per gli esami, per gli accertamenti, per gli interventi, le operazioni e le liste d'attesa sono ancora troppo lunghe. Sappiamo che un corretto e tempestivo accertamento, quindi una diagnosi è importante sia per prevenire l'insorgenza di una malattia che ovviamente per curarla con diagnosi si intende la ricerca e l'accertamento della malattia e quindi prima si arriva e prima si può curarla bene. Sappiamo che quindi ciò che deve fare il medico e l'ospedale è molto importante durante la visita, deve essere una visita che è approfondita, non superficiale, non frettolosa. Quindi quando il medico dovesse fare una visita in cui non prescrive degli accertamenti o ne prescrive altri che poi dopo risultano essere inutili oppure non prescrive una visita da uno specialista potrebbero insorgere delle problematiche anche di salute e con una diagnosi che può diventare a questo punto erronea, tardiva oppure ci possono essere omissioni nella diagnosi che vuol dire che il medico non individua la patologia ma questa poi dopo viene individuata molto più in là oppure addirittura la tempistica per il ritardo della diagnosi è talmente tale che poi il paziente muore quindi il medico non accerta la causa della malattia se non successivamente. Dal punto di vista informativo e consulenziale avete implementato questa piattaforma ad hoc proprio per rispondere alle esigenze e alle domande dei vari clienti. Ecco, pensate di muovervi su nuovi strumenti anche a livello tecnologico nei prossimi mesi, anni? Attualmente noi immaginiamo di continuare a sviluppare il sito internet impegnosalute.com dove si trovano diversi articoli con un taglio divulgativo, con un linguaggio semplice veniamo contattati ovviamente con il passaparola per le persone che ci conoscono ma anche attraverso il sito internet impegnosalute.com o il numero verde gratuito che è l'800 200 040 Chi ci contatta vuole ottenere un risarcimento del danno ma anche vuole avere giustizia giustizia vuol dire che ciò che è capitato a lui o alla famiglia non deve capitare ad altri vuole capire la causa dell'errore, vuole capire se è trattata di una tragica fatalità oppure se era evitabile e prevedibile è un'attività molto difficile nel senso che ci vuole una particolare attenzione, specializzazione ed è una materia dove ci vuole oltre alla tecnica di tipo giuridico credo anche una sensibilità, una capacità di ascolto per far questo sono affiancato da un team di avvocati e da medici legali e medici specialisti che esaminano tutta la documentazione e poi ci seguono fino al risarcimento del danno Grazie e congratulazioni ancora Grazie